L'allarme è scattato intorno alla mezzanotte e sono stati alcuni residenti della zona a chiamare il centralino dei carabinieri e i pompieri. Le fiamme stavano divorando la vetrata di un locale. L'episodio si è registrato in via Borromini, nei pressi del complesso commerciale che ospita un supermercato, un panificio e diversi altri uffici a pochi passi da via Settefarine a Gela. Mani ignote hanno collocato uno pneumatico di un'autovettura dinanzi all'ingresso del locale e poi hanno dato fuoco. Destinatario del gravissimo atto delinquenziale è il negozio di articoli sportivi intestato a Francesca Missuto. L'intervento dei pompieri è stato tempestivo e i danni fortunatamente sono limitati. I militari dell'arma hanno requisito le immagini riprese dalle telecamere interne al negozio e quelle della sistema di videosorveglianza di altri locali che insistono nella zona. Il negozio è aperto da poco più di due mesi e mezzo. Il marito della titolare, Luigi Vullo, è sconvolto per quanto accaduto. Si buttano in fumo i sacrifici di una vita e basta, solo questi. E' da due mesi e mezzo che il locale ha aperto? Sì, purtroppo vuol dire che dovrà andare così e basta. Qualcuno si è fatto sentire, vi ha chiesto dei soldi? No, assolutamente no. E come si legge allora quello che è accaduto? Non lo so, non lo so. Ma vivere a Gela è facile, è difficile per un commerciante? Guarda, non ci posso dire che è facile, è difficile. Questa è per me la prima volta, purtroppo. Dopo che è la prima volta, la sensazione che si è provata è chiaro che è quella di scoramento, no? Sì, diciamo sì, però uno deve tirare avanti, no? Perché deve pensare ai frutti dei bambini. Provi una rabbia intensa? Eh, ce la facciamo passare, purtroppo. Così, hanno lanciato una sfida? Eh, vengono qua, no. Se lanciano una sfida vengono qua.